La sinistra sta tentando di fare un blizza sulla legge elettorale in vista delle prossime elezioni. Ne sono convinti il segretario e i consiglieri della Lega, secondo i quali sarebbe in atto un piano architettato allo scopo di creare un'alleanza a posteriori tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Oltre a cambiare le carte in tavola, l'ultimo secondo utile per raggiungere l'obiettivo, ovvero introdurre il ballottaggio, per la Lega questa è una chiara dimostrazione della paura di perdere dopo 5 anni di pessimo governo regionale. Abbiamo ricevuto una richiesta da parte del gruppo Uniti per le Marche, del assessore Pieroni e del consigliere Rapa, che riprende un vecchio tema, quello del secondo turno. Già in passato il gruppo dei 5 Stelle aveva proposto questa modifica alla legge elettorale per introdurre il doppio turno, cioè chi non supera il 50% può tornare alle votazioni tra i due migliori candidati presidenti. Questo è un modo, sul rettizio, di fatto per poter permettere un accordo tra il PD e i 5 Stelle, tra il centrosinistra e i 5 Stelle, senza dirlo ai propri concittadini. Ecco, noi su questo stiamo facendo le barricate perché non vogliamo assolutamente che venga cambiata la legge elettorale a poche settimane dal voto e soprattutto se ci deve essere un'alleanza tra il centrosinistra e i 5 Stelle, lo devono dire alla luce del sole, lo devono dire ai cittadini, senza inventare nuove norme che gli consenta di fare sul rettiziamente una modifica che gli porti ad un'alleanza senza dirlo, un'alleanza mascherata diciamo così.